Terremoto in Grecia di magnitudo 4.8 che ha colpito il mare Geo a largo dell'isola greca di Scarpanto. A riferirlo è stato l'osservatorio geodinamico proprio di Atene, la capitale della Grecia per eccellenza. Non si segnarono per fortuna danni né vittime. L'impicentro della scossa registrata alle 9.51 di stamattina è stato localizzato a 71 km circa a largo dell'isola. Tipo centro invece ad una profondità di circa 10 km come l'osservatorio ci viene a riferire. Ringrazio per l'ascolto 4.8 ripeto la magnitudo registrata in Grecia precisamente ha colpito il mare Geo a largo dell'isola di Scarpanto. Un saluto caro a voi e al prossimo video vi avremo una notazione italiana.